Garbato e cortese, ma con la schiena dritta e determinato come sempre, il Rettore Gianmaria Palmieri nella sua relazione inaugurale dell'anno accademico 2015-2016 non ha risparmiato critica alla Regione, seppur inserite in un più ampio contesto di natura nazionale. Senza polemica e con inguaribile spirito costruttivo, ha detto Palmieri, rivolgendosi a Paolo Frattura, la mancata corresponsione da parte della Regione, malgrado le ampie garanzie già fornite dal Presidente l'anno scorso in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, degli importi fatturati e rendicondati, o comunque pienamente esigibili, pari ad oltre 4 milioni di euro, dovuti all'Unimol per attività di ricerca e formazione sulla base di convenzioni stipulate con la Regione Molise, ha creato ulteriori difficoltà all'Ateneo che, nonostante tutto, ha chiuso il bilancio con un avanzo di esercizio. Si tratta di somme, ha poi spiegato il Rettore, alle quali è legata la sorte di diversi precari, di giovani talenti di questo territorio, che sono tantissimi, che aspirano a cimentarsi nella ricerca dei nostri 8 mila studenti, che anelano, a buon motivo, ad una riduzione delle tasse universitarie ed a poter beneficiare di interventi a sostegno del diritto allo studio al pari dei loro colleghi che frequentano Atenei di altre regioni, anche limitrofe. Palmieri ha comunque auspicato un rapporto di piena collaborazione con la Regione e ha ringraziato il senatore Roberto Ruta, il quale ha fortemente appoggiato presso i ministeri interessati l'imminente istituzione di un laboratorio internazionale per lo studio delle aree interne e dell'Appennino, collegato proprio allo sviluppo delle aree svantaggiate. Critico nei confronti della Regione, anche Pasquale Guerriero, neolaureato alla Facoltà di Medicina e rappresentante degli studenti nel CdA dell'Unimol. Un Ateneo che registra anche quest'anno un aumento delle iscrizioni e quindi improntato alla crescita culturale e della formazione da parte dell'Università per una popolazione studentesca che oltre a crescere diventa sempre più esigente. La Regione recentemente ha approvato la nuova legge sul diritto allo studio universitario. Sicuramente era necessario un cambiamento ma sta di fatto che una legge senza i fondi a copertura di essa potrebbe risultare esclusivamente una manovra politica. Quale deve essere il ruolo della Regione nel sostenere l'Unimol e come si è comportato fino ad oggi l'ente pubblico? Sicuramente non è stata presente, non è stata d'aiuto all'Università, non sono mai stati nemmeno versati i fondi che per legge la Regione deve dare alle borse di studio che sono sempre state coperte con soldi degli studenti e dell'Università. Una Regione quindi assente che non ci ha permesso una crescita che è quella che il nostro Ateneo si merita visti i risultati che stiamo ottenendo a livello nazionale e pertanto speriamo che non solo ci sia la copertura finanziaria ma che su questa siano ascoltate tutte le istituzioni interessate e soprattutto gli studenti affinché vengano ripartite in maniera equa e in maniera profigua per il diritto allo studio.